Buonasera persona unica e straordinaria, come dici? Come dici? E' da settembre che aspetti la review dei prodotti Labo e ancora non l'ho fatta Hai ragione Ce l'ho qui Ce l'ho qui e te la faccio subito Da che cosa parto? Prendo i prodotti a caso? Così? Con un chalance? Partiamo dalla crema anti-age Labo Transme... Trasde... Labo Transde... Labro... Labrador Partiamo dalla crema anti-age Labo Transdermic Numero 1 La crema giorno Prima vi leggo che cosa dovrebbe fare secondo il bugiardino Poi vi dico com'è stata la mia esperienza Crema anti-età, rinnovatrice e levigante Trattamento transdermico, anti-età per pelli mature Con micro... micro... La difficoltà I tipi specifici che compongono la crema anti-età, rinnovatrice e levigante Sono stati testati per verificarne la capacità di penetrare nei diversi strati cutanei Dove possono svolgere in modo efficace la loro attività Retinol palmitate favorisce il rinnovamento cellulare Favorendo la rigenerazione cutanea con effetto levigante Tocoferil acetate svolge forte azione antiossidante Anti-invecchiamento riparatrice Calcium gluconate favorisce gli scambi intercellulari Ottimizzandone le funzioni Ozonide oleic acid veicola ossigeno sotto forma di ozono Migliorando la respirazione e il metabolismo cellulare Gli 8 acidi ialuronici del brevetto fillerina Con pesi molecolari diversificati Penetrano in maniera differenziata gli strati cutanei di epidermide e derma Apportando un vitale beneficio alla cute Applicare su viso e collo mattino e o sera Da usare da solo dopo l'anti-age renovating smoothing serum Ci dico anche che è dermatologicamente testata Senza parabeni, libera dai coloranti Testata al nickel, agli allergeni e senza profumo È senza profumo ma l'odore è molto molto buono Sì È elegante È proprio da signora sul viso La sua efficacia in quanto anti-rughe non l'ho potuta mettere in pratica Perché come vedete non ho un viso con le rughe Però La sua esperienza d'uso è qualcosa di sensazionale È una delle pochissime creme viso Se non forse l'unica Con cui ho un buon rapporto Nel senso che solitamente Questa cosa ve la ripeto mille volte Ma è per capire che rapporto ho con le creme Solitamente quando indosso una crema Poi il mio corpo anche se sembra A volte non si assorbe assolutamente Ma anche se sembra completamente asciutto Il viso e il corpo tendono a riproporla A farla riuscire dai pori A sudarla fuori E quindi mi ritrovo nuovamente il viso tutto appiccicaticcio e unto Con questa no Questa viene assorbita e rimane Per me appena Tra tutti i diversi strati della pelle Come dice appunto il bugiardino E funziona Nel senso la pelle rimane levigata Morbida e liscia Con questo profumo Proprio Sento una signora Quanto la indosso Una che Sofisticatezza Si dice Va bene Una signora veramente sofisticata Che cuffie Con le borche elevate Guardateve Così proprio Passiamo ad un altro prodotto per il viso Un altro prodotto su cui sto per dirvi belle cose E' il setting powder In italiano un fissatore in polvere universale Vado a leggervi le sue caratteristiche Fissatore in polvere universale Contenente il complesso brevettato dei 6 Stavolta non 8 6 acidi ialuronici di fillerina Una polvere traslucida universale Che si adatta a tutte le tonalità della pelle Tutte le imperfezioni vengono mimetizzate Grazie alle caratteristiche Peculiari del componente principale Una polvere di finissima silice Mette in risalto la pelle Senza cambiare la sua naturale luminosità Può essere utilizzato da solo O applicato sopra il fondotinta Per una carnagione naturalmente perfetta Senza imperfezioni Ipoallergenico Non comedogenico Nickel Cromo Cobalto Tested Disponibile in un solo colore Questo che vedete qui Con all'interno anche la sua bella Spugnetta È una cipria Talmente sottile Da essere impercettibile sul viso È veramente impalpabile Non ha il difetto di molte ciprie Di continuare a percepirsi Una specie di gesso Sul viso Di continuare a percepire la polvere La consistenza Gessata sul viso Questa no Questa lascia la pelle Completamente Setosa Perché La polvere è talmente sottile Che anche al tatto Non si percepisce come polvere Non si percepisce neanche una pelle Come sarebbe al naturale Per molte Quindi abbastanza unta Ma diciamo grassa Si percepisce una pelle Setosa Liscia E asciutta Mantiene la pelle Opacizzata A lungo Quindi il suo lavoro da cipria Lo fa E l'esperienza d'uso Secondo me È sensazionale È un altro di quei prodotti Per cui capisci Perché spendi Tanto E la differenza Che fa un prodotto Costoso Da uno low cost Molto spesso Non è l'efficacia Ma l'esperienza d'uso La sensazione Che ti lascia sul viso Quanto a lungo dura E qual è il suo E qual è il grado Di soddisfazione Che lascia in chi la utilizza Questa È qualcosa di stupendo Mi piace veramente Veramente tanto Ma c'è qualcosa Che ti è piaciuto Un po' meno Sì Vi faccio un piccolo Sui prodotti Meno belli E poi torniamo a parlare Di cose belle Il mascara Per esempio Il mascara Sì Mi piace Per carità Però prima vi leggo Il bugiardino E poi ne parliamo meglio Mascara Allunga ciglia Contenente il complesso Brevettato Dei sei acidi Ialuronici Di filerina Ciglie allungate Perfettamente separate Cornici per uno sguardo Intenso e sensuale L'innovativa formula Favorisce una distribuzione Uniforme del colore Ed una rapida asciugatura Mantenendo le ciglia Morbide e flessibili I pigmenti selezionati Consentono di ottenere Un colore ricco Intenso Non lasciano luni Sotto gli occhi La particolare forma Dell'applicatore Donale ciglia Un effetto visibilmente Allungante Definito Oftamologicamente testato Nickel Cromo Cobalto Tested Disponibile In due colori E io ho il nero Non è che non mi sia piaciuto Nel suo complesso E che è veramente Allungante Nel senso che è solo Allungante E non è Volumizzante Qui ci ingannano Dire la verità Perché dicono Sguardo intenso E sensuale Invece Secondo me La definizione più esatta È Sguardo elegante Perché È un mascara Sensuale No Cioè elegante Non sensuale Elegante Poi ovvio Per molti L'eleganza Può anche essere Sintomo di sensualità Però Secondo me Rispecchia più L'eleganza Che la sensualità Buona durata Non bisogna Combattere Per eliminarlo Fortunatamente È Facile L'applicazione Senza macchiare Palpebra superiore E palpebra inferiore Quindi è vero Non lascia aloni Non vi sporcate Tutta la faccia Per indossarlo Cosa Non scontata Per un mascara Di marca Perché Presto Vi parlerò Di un mascara Di marca Fantastico Bellissimo Ma Vi sporcate Tutta la faccia Per utilizzarlo E quindi Il fatto che sia Di facile applicazione Non è scontato Altro Ni Più che no È il rossetto È un ni Perché non è esattamente Un colore che adoro Sinceramente Però Adesso vado a leggervi La sua Discrizione Vediamo che cosa ne penso Rossetto Lunga tenuta Contenente Il complesso brevettato Dei sei acidi Ionici Fillerina L'innovativa formula Garantisce Elevata copertura Comfort E lunga tenuta La textura scorrevole E cremosa Riveste le labbra Donando una confortevole Sensazione di velluto L'elevata presenza Di pigmenti Accuratamente selezionati Garantisce un colore uniforme Intenso Il duraturo Ipoallergenico Nickel Cromo Cobalto Test Disponibile In nove colori A parte il colore Dicevamo Che io ho il 108 Che è questo rosso Molto classico Così La durata Mi ha sorpreso Moltissimo Nel senso che La durata Va bene Se dici lunga tenuta Deve essere più lungo Secondo me Ecco Però Copre benissimo E già La prima passata È un colore uniforme E molto intenso La cosa bella Però Che prende tantissimi punti È il packaging Perché come potete vedere Si avvita Oltre che Si spinge E si avvita Così in borsa Non vi si aprirà Mai Questo Penso di avervelo già detto In un haul Vedete Non si apre Perché va Svitato E riavvitato Passiamo agli occhi Con la crema antiocchiaie Trattamento transdermico Scherente Passiamo agli occhi Con la crema antiocchiaie Trattamento transdermico Scherente Per occhiaie Contraddistinto Dalla lettera E Gli attivi specifici Che compongono La crema antiocchiaie Sono stati testati Per verificarne La capacità Di penetrare Nei diversi stati cutani Dove possono svolgere In modo efficace La loro attività Un assurdo da leggere N-idro-ipsucinimide E-crisin Attivano l'eliminazione Dei pigmenti Di origine sanguigna Bilirubina E ferro Che già da me Sono pochi Responsabile Della colorazione Delle occhiaie La formula Esplica anche Un effetto correttore Immediato Sugli eroni scuri Delle occhiaie Gli otto acidi Ialuronici Del brevetto Fillerina Con pesi molecolari Diversificati Penetrano in maniera Differenziata Gli strati Cudani Dei piedermi Dei derma Apportando Un vitale beneficio Alla cute Spalmare una piccola Quantità di crema Antiocchiaie Molto piccola Mi raccomando Sulla zona caratterizzata Da ombre scure Nella parte inferiore Degli occhi Picchiettare Leggermente Con le dita Fino a completo Assorbimento La leggera colorazione Della crema L'effetto immediato Di ridurre L'apparenza Delle occhiaie Oftomologicamente Testato Senza parabeni Testato a nickel E senza profumo Questo Senza profumo Ma anche senza Particolare odore Ha un colore Bianco Leggerissimamente Verdastro Bisogna applicarne Veramente Veramente Poco Perché Se di troppo Avendo questa Leggera consistenza Colorata Poi rimane Il pigmento Tra una piega e l'altra E va nelle pieghette Come un correttore Io l'ho usato In sostituzione Al correttore Quindi non sotto Proprio al posto Del correttore Per un periodo Per vederne Effettivamente Se c'era un miglioramento Sì Si può benissimo Utilizzare senza correttore Perché L'efficacia immediata Già c'è Quindi Già Un leggero Ovvio Non vi fa l'effetto Cerone sul viso Però Una leggera schiaritura Delle occhiaie Già c'è Utilizzandola Tutti i giorni Poi Effettivamente Si riscontra Una schiaritura Della parte Delle occhiaie Fino a non averne più bisogno Poi si ricomincia il ciclo Quanto vi tornano Le occhiaie Ricominciate ad applicarlo In una decina C'è veramente Qualcosa di potente Che fa un effetto Littante Ma proprio All'istante Capito E Mi ha lasciato Senza parole Per portare via il trucco C'è poi L'acqua micellare Cleansing Transdermic Treatment Acqua micellare Pelli sensibili Delicate Contradistinta Dalla lettera C Flacone Da 200ml Applicare L'acqua micellare Labotrasdermic Con un batuffolo Di cotone Passandola Sotto il viso Se necessario Ripetere l'operazione Si può utilizzare Da solo O dopo un latte Detergente Lascia la pelle Morbida e pulita Donando una piacevole Sensazione di freschezza Procedere quindi Con l'applicazione Di trattamenti Viso In serum O crema Dell'eventuale Make up Preparato Cosmetico Uso Esterno Evitare il contatto Con gli occhi Con gli 8 Acidi Fillerina Funziona Funziona Molto bene Anche con i mascara Più complicati Da rimuovere Non ha bisogno Di risciacquo Perché Quello che rimane Sulla pelle Va a funzionare Come un siero La pelle Lo assorbe E ne rimane Migliorata Io ho trovato Un miglioramento Nel non risciacquare L'acqua micellare Dopo l'uso Questa acqua micellare Non se ne sente Neanche il bisogno Perché Quello che rimane È un vero e proprio Trattamento Quindi non lascia La pelle Unta Appiccicata O con Dei residui Lascia la pelle Pulita E Nutrita Degli 8 Acidi Ialuronici Del complesso Fillerina E arriviamo All'ultimo Prodotto Che è metà Metà Perché è la crema Contorno occhi E labbra D'effetto filler Per il contorno occhi E labbra E vi dico subito Che l'ho trovata Molto efficace Per quanto riguarda L'effetto filler Sulle labbra Meno per il contorno occhi Bisogna dire che Io non ho particolari rughe Sul contorno occhi Sì ho delle micro rughe Nel contorno labbra Ma Quelle che abbiamo tutte Immagino Quelle Ancora non ho il codice a barre Ma è un micro accenno Di codice a barre Perché questo Leviga Completamente E soprattutto Rimpolpa Molto le labbra Le fa molto più Distese Anche proprio a livello Non solo di rughe Proprio di Di labbro Il labbro Diventa molto più Gonfio Turgido Ecco la parola esatta Diventa molto più Turgido Negli occhi È un pochino pesante Nel senso che Mi rimane un pochino unto Mi appesantisce un po' La palpebra Non l'ho visto molto bene Negli occhi Ma sulle labbra È una bomba Quindi la mia recensione Di prodotti labo Finisce qui Un bacione grande Alla prossima